Ci sono persone che muoiono senza neppure ricevere un'ultima carezza, come il barbone spentosi recentemente a Roma, uomini e donne che hanno fatto dell'amore un servizio e sono stati trucidati dall'odio, come le suore di madre Teresa uccise in Yemen, bambini che soffrono di malattie rare, come quelli che vivono nella terra dei fuochi. Alla messa a casa Santa Marta Papa Francesco ha enumerato alcune delle valli oscure del nostro tempo, rimarcando che l'unico modo di trovare un senso a tutto questo inspiegabile dolore è affidarsi a Dio che mai lascia solo il suo popolo. Perché soffre un bambino? Non so, è un mistero per me. Soltanto mi dà qualcosa di luce, non alla mente, all'anima. Gesù a Getsemani Padre questo calice no ma si faccia la tua volontà si affida alla volontà del Padre Gesù sa che non finisce tutto con la morte o con l'angoscia e l'ultima parola della cruce Padre nelle tue mani mi affido e muoce così a fidarsi a Dio che cammina con me che cammina con il mio popolo che cammina con la Chiesa e questo è un atto di fede io mi affido non so non so perché accade questo io mi affido tu saprai perché non so perché